Salve ragazzi sono LethalBladeNinja Scusate ma questo è un video per la votazione della nuova let's play Solo che volevo fare un video unico con tutte le proposte Quindi vi prego di rivotare nei commenti di questo video Perché rimuoverò l'altro visto che è troppo Credo che sia troppo lungo guardare quel video e poi il video successivo Quindi sarò breve, vi metto soltanto una lista Vi dico soltanto brevemente i titoli dei giochi Vi prego di rivotare sempre nello stesso modo I primi tre giochi dalla lista più uno che volete voi che non è nella lista Vi prego di scegliere almeno uno dalla lista però Se vi fanno schifo tutti scegliete quello che vi fa meno schifo E forse non l'ho spiegato l'altra volta ma il motivo per cui non ci sono giochi di Mario o di Pokémon O perché non c'è Pikmin 1 nella lista È semplicemente perché sto già facendo let's play di quei giochi Quindi non faccio due let's play di Mario nello stesso tempo Due di Pokémon nello stesso tempo Pokémon Snap è un'eccezione perché non è proprio un gioco di Pokémon Ma comunque, allora, lista breve Deadly Creatures per Wii Final Fantasy Tactics Advance per Game Boy Advance Final Fantasy X per PlayStation 2 Fire Emblem per Game Boy Advance Fire Emblem Path of Radiance per GameCube Kingdom Hearts per PlayStation 2 Kirby 64 per Nintendo 64 Kirby Nightmare in Dreamland per Game Boy Advance Luigi's Mansion per GameCube Metroid Other M per Nintendo Wii One Piece Unlimited Cruise per Nintendo Wii Pokémon Snap per Nintendo 64 The Legend of Zelda Force Wars Adventures per Nintendo GameCube The Legend of Zelda Twilight Princess per Nintendo Wii The Legend of Zelda Windwalker per Nintendo GameCube WarioWare Smooth Moves per Nintendo Wii Wario World per Nintendo GameCube E Yu-Gi-Oh! Il Regno dell'Illusione per Nintendo GameCube Spero di essere stato abbastanza breve Mi scuso se dovete rivotare un'altra volta Ma per favore mantenete ordine nei commenti E siate seri E partecipate mi raccomando Scusate se dovete rivotare di nuovo Mi dispiace davvero tanto, 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 tanto E non metterò più video finché non ho un tot di voti Quindi votate se non ho niente più video No scherzo Comunque vi spingo a votare come nell'altro video Spero di essere stato abbastanza breve Oh oh! Neanche 3 minuti Ho parlato troppo in fretta Spero che mi abbiate seguito Vi era Lethal Blade Ninja Vi ringrazio Mi scuso ancora per dovervi far votare di nuovo E grazie a tutti del supporto ancora Ciao alla prossima Con la nuova let's play O quelle che sto già facendo Insomma, ciao Ciao!